Domenica 24 marzo nel teatro dell'oratorio Santa Chiara si terrà Lu Martuerio con noi Antonino Cimino quindi cosa metterete in scena? In pratica durante il rite della settimana santa grazie alla collaborazione del comitato del venerdì santo della parrocchia di San Diego, Santa Chiara l'associazione Litri Re e l'associazione Santissima Adolorata porteremo in scena Lu Martuerio una rappresentazione storica scritta in tre atti da padre Mario Trupia quindi ci stiamo impegnando, vedremo di far rivivere e ricordare un po' quello che è successo al nostro Gesù Cristo quindi servirà soprattutto a entrare proprio nella settimana santa e capire la sofferenza e offrire la sofferenza a Gesù che ha veramente sofferto quindi invitiamo tutti ad essere, a partecipare quindi 8 e mezzo teatro di Santa Chiara quindi l'ingresso è aperto alla cittadinanza? sì è aperto a tutte e soprattutto è ingresso gratuito quindi grazie a qualche sponsor al venerdì santo al buon cuore di qualche persona che poi ci aiuterà nelle spese vive faremo tutto in maniera totalmente gratuita per la regia di Mario Ferrante Bannera Mario Ferrante Bannera è Vincenzo Avanzato quindi sono quelli che hanno cercato di raggruppare tutto il gruppo e tenerlo stretto e vi aspettiamo domenica quanti attori siete? un'ultima domanda saremo una quarantina di attori dai 6 ai 50 anni quindi abbracciamo un po' tutte le varietà